La Puglia ha in costruzione diversi ospedali alcuni sono veramente a buon punto questo è quello di Taranto soprattutto oggi stiamo facendo una cerimonia tradizionale di insare il tricolore sul sull'ultimo piano realizzato ovviamente io sono qua soprattutto per dire grazie alle maestranze a tutti quelli che hanno lavorato questo ospedale probabilmente sarà uno dei più belli ospedali mai costruiti io mi auguro che possa essere coerente con la grande capacità sanitaria che verrà esibita qui dentro. Sono ulteriori 300 posti letto che servono ad ampliare e ad ammodernare la rete ospedaliera della nostra regione è un cantiere importante un'opera importante inserita in un contesto fantastico è una situazione e progettuale molto molto avanzata con dei blocchi con un bassissimo sviluppo in altezza che permette comunque di costruire un ospedale moderno con tutte le facilities diagnostiche interventistiche che servono allo scopo e la struttura è completa adesso si andrà avanti con gli impianti e tutto il resto e ovviamente anche le attrezzature assicurerà appena completa tutto il fabbisogno in termini di emergenza urgenza che è il compito prioritario di questo ospedale che è un ospedale primo livello avremo i 300 letti avremo le otto sale operatorie, il pronto soccorso all'avanguardia con le diagnostiche all'interno stesso del pronto soccorso, la cardiologia interventistica, la radiologia interventistica quindi sarà un centro di eccellenza per quanto riguarda in particolare le emergenze urgenze.